LIC! Ben ritrovati in miei cari avventuri delusione a barcaccio. Questo pomeriggio voglio dare spazio ad un'interessante intervista rilasciata dal resto del Carlino che ha intervistato Eraldo Pecci e ne ha dette di interessanti, ma prima però devo dire anzitutto, magari i più giovani non sanno chi sia Eraldo Pecci Eraldo Pecci è stato un importante giocatore del Bologna che ha giocato più di 130 partite con la nostra maglia poi una volta ritiratosi è diventato un commentatore TV e appunto ha fatto spesso coppia con Bruno Pizzo nelle telecronache delle partite della Nazionale pertanto magari è la coppia Pizzo e Pecci già ti potrebbe dire qualcosa ma Sappi è stato un grande giocatore del Bologna quindi è stato raggiunto ai microfoni dell'arresto del Carlino e ha chiusato sopra questioni che gli sono state poste e ha detto delle cose interessanti che voglio ora commentare con voi e dirvi appunto cosa abbia detto prima però di iniziare mi raccomando subito mi piaccino iscrivetevi e condividete tale canale sommo nonché erudito con tutti i vostri amici di Federoso Blu in un solo allora la prima cosa che il Pecci dice è che lui si sia fatto ok ormai un'idea di quello che è l'ambiente Bologna e dice che dopo i primi due o tre anni di assestamento in A da saputo si sarebbe aspettato qualcosa di più che dice il posizionarsi nella parte sinistra della classifica ok in maniera stabile era un qualcosa che lui si andava ad augurare e aspettarsi con l'aggiunta di Saputo e poi da lì una volta stabilitisi nella classifica sinistra di appunto Serie A da lì puoi prendere la spinta per cercare sempre zone più ambiziose dice che capisce la pandemia capisce la crisi tutto quello che vuoi ma che comunque coinvolge tutti ma che non può essere scusa per quello che comunque la società ha invece partorito quindi qualcosa di meglio se lo sarebbe immaginato gli chiedono cosa ne pensi di Arnautovic e qui dice una cosa che è diciamolo condivisibile dice che gli europei come i mondiali sono uno splendido torneo estivo e che ci sono poche partite concentrate in un mese e appunto dove in questo mese risulta più che altro decisiva lo stato di forma che raggiunge in quel preciso momento e che se uno avesse giudicato i calciatori in passato ok per mondiali europei giocati avrebbero comprato schillacci a peso d'oro pensando appunto di aver tesserato il migliore attaccante del mondo e quindi partendo da questo presupposto si dice un po' stranito nel vedere quello che è successo qua a Bologna nei riguardi dell'Arnautovic perché dice sembra essere arrivato il nuovo Haller che andate a vedere chi era Haller ok e capite che chiosa ha fatto il pezzi e dice che appunto guardando però la carriera dell'Arnautovic ha sì giocato in campionati importanti ma che in doppia cifra poche volte ci è andato e che quindi se il tifo di Bologna si aspetti da lui che possa raggiungere 20 gol a stagione secondo lui si sbaglia poi aggiunge che a giovarne dell'Arnautovic siano magari più che altro quelli che gravitano attorno a lui e cita uno su tutti Musa Barro e dice che da Musa Barro invece che si aspetti qualcosa di più riguardo e soprattutto a quello che ha fatto gli anni scorsi e che l'Arnautovic possa farlo girare meglio così come possa fare girare meglio l'intero attacco ok e dice che il Barro calcio in porta con un'abilità che in serie ha pochi anni il problema caro Pecci è se c'è solo quello lì è un problema comunque staremo a vedere se l'Arnautovic possa tirare fuori dal Musa Barro se possa essere una Musa ispiratrice per il Musa ok vedremo aggiunge che a Bologna ci sono tanti giovani specie a centrocampo dove possiamo contare di gente come Scalto Svambreg Dominguez e tutta la squadra quindi può crescere se crescono questi e aggiunge che un club come il Bologna non può prendere il fenomeno che ti fa svoltare deve puntare sul miglioramento del collettivo allora io su questo è un'unica cosa su cui non sono totalmente anzi non sono concorde perché dipende da dipende da tante cose allora io parto sempre da un presupposto e poi vado avanti perché comunque questo senso non è questo il senso del video in quanto qua davo spazio alla appunto intervista del Peci però qui devo fare una cosa se tu parti dal presupposto caro Eraldo che hai un presidente con la fresca ok tanta fresca perché stiamo parlando di un presidente che può vantare forse una forza economica che in ben pochi altri hanno in Europa ok in Europa non in Italia se tu parti da questo presupposto e mi dici che il Bologna non può prendere il fenomeno che ti possa fare svoltare dici una cosa che non è propriamente vera diciamo che un conto è potere e un conto è non volere ed è qui la differenza il Bologna non è che non può perché io questo non mi stancherò mai di dirlo il Bologna può perché altrimenti saremo la stregua di società che non hanno un presidente come saputo avere un presidente come saputo ha oneri e onori diciamo che il Bologna sulla carta può prendere un attaccante che o un attaccante un giocatore che possa far svoltare ok un fenomeno lo può fare il problema è che non vuole ok quindi bisogna distinguere tra potere e volere il Bologna non vuole però può ma non vuole e qui sono d'accordo se tu usi vuole sono d'accordo poi dice che parlando della difesa perché gli chiedono della difesa cosa ne pensi e lui dice che al Torino Bonifazi non ha mai convinto e riprova del fatto è che tutti gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina del Toro lo guardavano e lo mandavano a giocare altrove perché non aveva non ha convinto mai nessuno poi è andato alla spalla e lì ha fatto bene dice vediamo adesso Sotomiaso afferma è un giocatore che è migliorato tantissimo però non so se si è cresciuto nella maniera tale per cui possa essere oggi un giocatore già da Premier League e dice che un aspetto da non sottovalutare è che il Bologna abbia preso gol per 50 partite di fila e che qualche problema quindi evidentemente in difesa ce l'ha e ce l'aveva dice Gianco se ne parla sempre in ottica mercato Bologna è una cosa normale aggiunge perché allenatori e dirigenti si ricordano si ricordano quanto ha fatto lui qui a Bologna e quindi vivono vivono di quel ricordo che se vogliamo questo è un errore che si fa secondo me perché allora se uno ragione dovesse ragionare così ci andiamo a riprendere i Pulgar i Verdi e i Biavarà il calcio non si ragiona così ragazzi il calcio bisogna ragionare a 360 gradi non si può andare avanti anche lì per non ci si affeziona nel calcio nel calcio quando inizia la partita conta solo l'agonismo poi chi indossa la maglietta chi c'è sotto poco importa bisogna mettere da parte il sentimentalismo secondo me Gianco ha fatto bene a Bologna in quei sei mesi sì è vero ma da lì a dire che se dovesse tornare qua farebbe bene così come ha fatto bene in quei sei mesi io ho dei dubbi perché ho dei dubbi perché guardo la sua carriera ok per quello ho dei dubbi bisogna guardare le carriere dei giocatori le carriere dei giocatori sembra strano ma suggeriscono tante cose poi aggiunge gli chiedono l'ultima chiosa sul Soriano gli chiedono come mai secondo lui Soriano non sia stato convocato da Mancini e se avesse o meno meritato tale convocazione e qui dice un'ovvietà nel senso che penso che tutti noi possiamo essere concordi dice dopo aver visto quello che ha fatto Mancini all'europeo come si fa a dire che Mancini abbia sbagliato diciamo che Soriano aggiunge il Pecci e di cui io sono concorde ha la sfiga di vivere in un'epoca e in un'era dove il centrocampo dell'Italia è uno dei migliori al mondo e quindi giustamente per Soriano c'è poco spazio perché l'Italia vanta di giocatori basti pensare ai verratti ai Locatelli ai Barella ai Pessina ok ai sensi che se dovessero stare bene ok anche quello secondo me sarebbe veramente tanta roba senza contare tutti quelli che comunque non ho citato insomma c'è tanta ai Giorginio mi sono dimenticato di Giorginio come fai a pensare che Soriano potesse ok poi uno si mi può dire potevi chiamare lui e non chiamare Cristante però lì poi sono considerazioni tecnico-tattiche che fa l'allenatore evidentemente Mancini vedeva più utile un Cristante ok che un Soriano dopo tutto anche visto l'utilizzo che ne ha fatto di Cristante in determinati momenti della partita gioca gioco forza non si poteva pensare che Soriano potesse fare lo stesso alla stregua del Cristante per dire quindi come si fa a criticare Mancini Mancini ha avuto ragione semplicemente ok questa l'intervista del Pecci che dice delle cose condivisibili dice delle cose condivisibili fatemi sapere i miei cari vintori se avete delle rimostranze ok da dire all'Eraldone Pecci fatemelo sapere qui sotto nei commenti attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui all'Ugione al Calcio di un nuovo video a mi raccomando iscrivetevi condividete e lasciate subito un mi piccino e noi ci sentiamo alle prossime chiacca da barra grazie a tutti